Nel corso di formazione dedicato al digital storytelling noi vedremo questa interessante metodologia. Innanzitutto cos'è? È una metodologia attiva, fa parte delle cosiddette metodologie attive con cui noi narriamo, noi gli studenti, narrano una storia. Il digital storytelling non nasce negli ultimi anni in settori direttamente scolastici, nasce per esempio nella pubblicità, nella comunicazione, specie nella comunicazione politica, nella comunicazione pubblicitaria, ma può essere utilizzato con beneficio anche all'interno della scuola. Quindi è una metodologia attiva, molto partecipativa, con cui i ragazzi narrano una storia. Questo parte dal concetto è che quando raccontiamo una storia impariamo meglio i contenuti di quella storia piuttosto che raccontare un determinato contenuto senza una cornice narrativa che ne faccia da sfondo. Un altro aspetto che differenzia il digital storytelling da una narrazione multimediale è naturalmente la sua natura narrativa. Una presentazione multimediale non ha necessariamente un andamento narrativo, ha un andamento sequenziale, ma sequenziale non è per forza sinonimo di narrativo. Digital storytelling ci sono di tantissimi tipi e tantissimi tipi possono essere usati con particolare soddisfazione a scuola. Uno per esempio è quello dei cosiddetti finali alternativi, molto utilizzato in ambito letterario. Si invitano per esempio gli studenti a immaginare un finale alternativo e giustificarlo naturalmente di un romanzo, di un racconto. In questo modo è richiesta comunque la conoscenza del contenuto, quindi una conoscenza tradizionale del contenuto, ma in più e in questo senso diventa attiva la metodologia. I ragazzi sono portati a scrivere, magari nello stile dell'autore, un finale alternativo. Oppure un altro aspetto che è sempre più presente nei libri sono le cosiddette interviste o dialoghi impossibili, piuttosto che richiedere agli alunni il pensiero di un determinato o di più autori, si immagina che tali autori dialoghino tra loro naturalmente su contenuti che poi sono stati oggetto di studio in classe. Oppure un altro aspetto molto noto è quello della biografia, della biografia naturalmente immaginaria ma fondata su dati concreti o l'autobiografia o persino il reportage, che i ragazzi peraltro possono realizzare a volte anche praticamente grazie anche ai loro strumenti multimediali come una fotocamera ormai praticamente presente in tutti i telefoni. Un altro aspetto legato soprattutto al digital storytelling di ambito scientifico è la cosetta science fiction nella quale si immagina un contesto in cui viene presentato un determinato esperimento per esempio o addirittura il programma tv. Questi sono solo alcuni dei tipi del cosiddetto digital storytelling. Quali sono i vantaggi di questo approccio? Innanzitutto anche qui parliamo di apprendimento esperienziale, vale a dire un apprendimento che passa per un'attività concreta che i ragazzi hanno fatto, un'attività concreta che naturalmente va oltre lo studio del manuale. È una metodologia che stimola più di tutti la creatività, pensiamo per esempio ai finali alternativi o ai prologhi immaginari per esempio. Indubbiamente è un aspetto che favorisce la creatività dei ragazzi più di altre metodologie. È potenzialmente poi multidisciplinare perché se immaginiamo per esempio un finale alternativo di un romanzo possiamo anche ipotizzare che i ragazzi ne facciano un corredo iconografico e quindi si può facilmente integrare la letteratura con l'arte oppure la filosofia con la storia per esempio. Inoltre favorisce competenze trasversali. Quali sono? Una competenza trasversale per esempio può essere quella dell'uso di strumenti multimediali come possono essere le presentazioni. Un'altra competenza trasversale può essere quella di lavorare in gruppo perché il digital storytelling per quanto non sia necessariamente da attuarsi in gruppo è preferibile in questa conformazione. Cosa impareremo nel corso? Vedremo come strutturare dei moduli di digital storytelling perché naturalmente questa metodologia funziona in maniera molto efficace per moduli non in maniera continuativa naturalmente. Impareremo a usare degli strumenti multimediali che nascono per lo storytelling e quindi sono particolarmente adatti a questo tipo di metodologia. Impareremo in generale a far lavorare i ragazzi in gruppo tramite questo approccio, tramite diciamo questa finalità legata alla narrazione digitale. E poi, e questo è un aspetto forse il più importante, impareremo a valutare anche in modo autentico, tra virgolette perché nella letteratura scientifica del settore valutare in modo autentico ha un significato e accezione diversa dalla valutazione tradizionale. Valutare in modo autentico per esempio significa anche coinvolgere i ragazzi nella valutazione, favorire la valutazione tra pari secondo una scala di indicatori che normalmente non è per forza usata all'interno delle nostre valutazioni. Quindi creeremo delle rubric, qualcosa di più complesso, di griglie di valutazione in cui inseriremo degli indicatori non sempre presenti nelle nostre valutazioni. Cosa è necessario per un corso sul digital storytelling? Naturalmente una costazione, visto che noi parliamo di digital storytelling, quindi non solo di storytelling, che sia fisso portatile non ha differenza. Un tablet eventualmente perché alcuni siti che useremo possono essere fruibili anche da dispositivi mobili e naturalmente una connessione ad internet. Per quanto riguarda gli strumenti online che adopereremo di più, parlo di TAC.com che è un sito che nasce proprio per dei cartelloni multimediali, quindi per delle narrazioni multimediali ed è molto efficace, molto semplice da usare, naturalmente gratuito. Storybird che forse è il sito più noto per il digital storytelling. storytelling. Sway, che è un recente prodotto Microsoft, facilmente usabile e di grande impatto grafico. Il numero di incontri ore? Normalmente per un corso sul digital storytelling si parla di 8 e 10 ore e un massimo di 3-4 incontri.